Cosa ti ricordi delle nostre sedute di psicoterapia o di musicoterapia? Bene, la musicoterapia, abbiamo fatto musica, ci siamo anche divertiti, però ci siamo anche concentrati un attimo. La musica ci ha portato, diciamo così, in un'altra dimensione, proprio le note. Abbiamo lasciato che le note entrassero dentro di noi e facessero il loro lavoro vibrazionale. Ma soprattutto perché le note erano prodotte dal terapeuta che utilizza un metodo intenzionale, cioè intenzionalmente utilizza i suoi suoni, i suoni che produce, affinché siano appunto terapeutici per il paziente. Già la musica di per sé ce l'ha di natura questa proprietà. Per di più, se l'interprete poi è anche intenzionale, usa la sua intenzionalità proprio nel dirigere verso la guarigione il paziente, ancora meglio. Questo per quanto riguarda la musicoterapia. Invece per le sedute abbiamo parlato moltissimo dei sogni, abbiamo elaborato i nostri sogni, no? Quindi quella parte onirica che ci parla di noi in un modo diverso, in un modo alternativo. Quindi i sogni ci spiegano tante cose della nostra vita. Adesso mi viene in mente di dirti una cosa. Tu eri prigioniera di una specie di ologrammazione anche onirica, che a un certo punto venne fuori in un sogno che riguardava i gemelli. Sì. Ti ricordi? Sì, i gemelli. Quindi, dopo di me, mia madre aveva avuto due gemelli maschi, quando io avevo tre anni. Loro però sono morti a distanza di breve tempo uno dall'altro, uno a otto mesi, l'altro a sedici mesi, per svariate problematiche di salute. E in qualche modo, io che ero bambina a quel tempo, erano i miei compagni di giochi e quant'altro, avrò sofferto molto per quella perdita grave. Però quella perdita era rimasta dormiente, era rimasta un qualcosa di dormiente che allo stesso tempo ha avuto il suo peso nella mia vita da ragazza, da adulta. Era stata presa veramente sotto gamba. Invece io, durante la terapia, ho proprio sognato, l'ho proprio visto, il funerale di uno dei due gemelli. Quindi questo corpicino, col vestito bianco nel lettino, la bara bianca di lato, le persone intorno al lettino. E l'ho sognato esattamente così come lo ricordavo. Perché anche se ero molto piccola, quel ricordo è indelebile in me ancora oggi, che sono molto adulta. Quindi è veramente indelebile quel... Quanti anni hai adesso? 59. Complimenti, ti porti benissimo. Grazie. E quindi quel sogno è stato determinante perché poi di lì abbiamo lavorato molto bene nel rimuovere quella problematica che non era stata risolta. All'epoca si pensava che i bambini non potessero neppure soffrire di certe cose perché non capiscono. I bambini non capiscono, si diceva all'epoca. E invece era un frammento di vita di quel tempo che mi aveva segnato molto, molto. Era una perdita molto grave per me. E me lo portavo dietro. Fino a che poi l'abbiamo risolto. Chissà perché io mi ricordo che c'erano problematiche viscerali in quei bambini o c'era qualcosa che aveva a che fare con... O sbaglio? Sì, sì, sì. I bambini in pratica avevano... mia madre aveva preso dei biscotti dal ufficio sanitario, mi sembra si chiamasse allora. È solo che questi biscottini qua poi dopo furono analizzati quando i bambini non sono stati bene e risultarono avariati. Insomma, in qualche modo avevano fatto molto male ai bambini. Che poi da lì non si sono più ripresi. Insomma, consideriamo... 56 anni fa... 56 anni fa le cure non erano certo come quelle di oggi. Quindi hanno magari sottovalutato, non so, effettivamente le cose proprio bene e bene come sono andate. Però da lì i bambini sono stati sempre peggio, sempre peggio, fino a perdere la vita. Per cui sì, loro hanno avuto un problema intestinale, partito da un problema intestinale a quale poi si è collegato il mio morbo di Crohn. Qua è il morbo di Crohn, fuori, fuori. Non detto a fuori. Va bene, grazie per adesso. Prego. Grazie.